I primi dieci minuti sono stati un po' difficili, perché loro hanno impattato bene la partita. Poi abbiamo preso noi le reti del gioco in mano e abbiamo creato, abbiamo creato, abbiamo creato. Poi ci stanno le partite come quelle di oggi, che non riesce la palla dentro a dentro, quindi ci sta stretto sì. Non c'è poco da dire. Mentalmente no, è bello perché comunque sia giochi sempre. Fisicamente è un po' diverso perché comunque sia ci sono dei viaggi da fare, tante ore da stare sui treni, in pullman, quindi fisicamente non è facile. Però cerchiamo di affrontarle tutte con l'atteggiamento giusto e cercando di portare a casa sempre tre punti. Io bene, diciamo che il mister già l'ho avuto in passato, quindi conosco bene quello che lui vuole. Sia in centrocampo a due, centrocampo a tre per me non è un problema. L'importante è che riusciamo a ottenere risultati che come oggi siamo riusciti, cercheremo di rifarci già da mercoledì.